Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Vipili per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze, Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze è riaperto, lo svincolo di Poggi Bonzi Nord in direzione Firenze, chiuso in direzione Siena per lavori. Scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento a Uno di Firenze in Prunita e San Casciano. Sulla Siena-Bettolle, fino al 26 settembre per lavori, chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Sulla statale Uno Aurelia, scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano, con chiusura dello svincolo di Monte Pescali in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!